Bentornati con il video sulle condizioni di innevamento e del pericolo valanghe in Piemonte per il fine settimana. Da mercoledì nuove nebicate hanno interessato tutta la regione, con quantitativi di neve fresca più importanti sui settori alpini meridionali. Progressivamente andando verso nord i quantitativi sono stati minori. La nuova neve molto leggera si è andata a depositare sui versanti solleggiati a quote inferiori 1800-2000 metri sul suolo nudo, pietre e ghiaccio. Sui restanti pendii poggia con aderenza variabile sulla neve vecchia, composta da croste dure o su cristalli sfaccettati. La ventilazione in montagna, anche in corso di nevicata, proviene dai quadranti settentrionali e sta ancora determinando la ridistribuzione della nuova neve. Da sabato è atteso un generale rialzo dello zero termico che potrà ancora determinare una progressiva perdita di stabilità soprattutto della nuova neve, con valanghe spontanee sui pendii soleggiati. Con l'aumento delle temperature aumenta anche la possibilità di sollecitare gli strati deboli più profondi e di conseguenza anche il distacco provocato potrà risultare più facile. Da domenica sono attese nuove deboli nevicate associate a venti forti da nord-ovest che potranno determinare un aumento del grado di pericolo sulla parte occidentale della regione. Vi salutiamo augurandovi un buon fine settimana sulla neve. Grazie a tutti.